Buon pomeriggio, mercoledì 30 maggio e ben ritrovati con Infostudio. Un veliero con a bordo 31 migranti è stato intercettato dalla Guardia di Finanza, da un guardacoste della stazione operativa navale di Crotone per la precisione, che ha anche fermato i due presunti scafisti. Sono un ucraino di 21 anni ed un A0 di 38 anni. L'imbarcazione proveniva dalla Turchia, battente bandiera tedesca, ed era difficilmente sospettabile perché era mimetizzata tra il comune traffico da diporto ed è stata intercettata dai sistemi di scoperta del mezzo navale della Guardia di Finanza quando si trovava a largo della costa crotonese. Tra i migranti c'erano 5 donne e 5 minori, 31 in tutto, lo ripeto, stipati sotto coperta in condizioni disumane. Il veliero è stato condotto nel porto di Crotone ed è stato allestito il dispositivo per le procedure di accoglienza. Vi ricordo che nel periodo 1 gennaio, 29 maggio, quindi devono essere aggiunti questi numeri, sono arrivate in Italia 13.303 persone contro le 60.228 dell'anno scorso, nello stesso periodo, quindi il 78% in meno. Sono già più di 50, e si avviano ad essere ormai una sessantina, i sindaci calabresi che hanno aderito alla manifestazione indetta per sabato prossimo dal Partito Democratico a Roma, lo ha comunicato il Comitato Promotore. In un documento i sindaci hanno sostenuto che le parole, quelli che hanno aderito, naturalmente che le parole sono pietre, in queste ore la massima istituzione della Repubblica, cioè il Presidente Mattarella, è finita sotto attacco da parte di forze politiche che hanno addirittura veicolato messaggi esplicitamente intimidatori verso il Capo dello Stato che ha esercitato, sostengono i sindaci del PD, il suo ruolo di garante dell'unità nazionale e della Costituzione. Non era mai successo in 70 anni, affermano ancora i primi cittadini, che il Presidente della Repubblica fosse oggetto di imposizioni e solo la sua serena fermezza morale e giuridica ha evitato un precedente nella prassi costituzionale precedente che sarebbe pericolosissimo. Questa è la riunione nel corso della quale l'altro i vertici del PD hanno deciso di aderire intanto alla manifestazione di Roma e poi hanno invitato i sindaci e anche le altre istituzioni sul territorio a partecipare e da partecipare anche in maniera compatta alla festa della Repubblica. La manifestazione che avrebbe dovuto, usiamo a questo punto il verbo al condizionale, tenersi in Calabria, probabilmente non si terrà più, insomma anche perché i tempi sono talmente ravvicinati, domani sarà già la vigilia della manifestazione romana. Si era parlata di una manifestazione in Calabria da tenere precedentemente a quella che poi si sarebbe svolta nella Capitale. Parliamo invece adesso di sviluppo sostenibile, ovvero se ne è parlato a Catanzaro a cura dell'APCO, che è l'associazione professionale dei consulenti di management, che ha parlato di prassi, ma ha parlato poi anche di rispetto delle leggi, rispetto anche dei comportamenti etici che sottendono da un lato alla cura della persona, dall'altro alla salvaguardia dell'ambiente ed anche al rispetto di molte iniziative che sono più di quanto non si possa immaginare, consentono appunto di aderire ad un modello di sviluppo al quale tutti dovremmo tendere. Il modello di sviluppo economico e sociale in Calabria è possibile più che in altre regioni. E' quanto è emerso dal secondo festival nazionale dello sviluppo sostenibile che quest'anno APCO, l'associazione professionale dei consulenti di management, ha organizzato in Calabria, precisamente a Catanzaro, presso la sede della cittadella regionale, dove si è svolto un convegno sul tema degli asset intangibili e sui nuovi modelli di sviluppo economico e sociale, in collaborazione con l'ASVIS, l'Aleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ed il patrocinio di Regione, Università della Calabria e Forum del Terzo Settore. Scopo dell'assise era anche quello di far crescere una maggiore consapevolezza sull'importanza dell'agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. La presidente dell'APCO, Cesara Pasini, ha parlato di economia circolare, del reimpiego dei materiali non più utili o da smaltire e della specializzazione italiana nel settore del riuso. Pasini ha sottolineato che al sud, specie in Calabria, ci sono possibilità straordinarie, a partire dall'agroalimentare. Ma il concetto di sostenibilità va considerato sia come attenzione alle politiche di riduzione dell'inquinamento, sia in termini di conoscenza e di innovazione e di valorizzazione delle risorse umane. È una delle rare occasioni in cui si possono affrontare delle tematiche particolarmente importanti e di frontiera per le imprese, ma non solo, per il tessuto produttivo insensolato di tutto il territorio regionale, senza necessariamente dover fare tanti chilometri, diciamo, lontano dalla nostra regione. Quindi sicuramente la giornata di oggi può rivestire un'importanza strategica per affrontare il tema soprattutto degli asset immateriali che possono rappresentare anche all'interno del nostro tessuto produttivo la leva principale per uno sviluppo sicuramente sostenibile. Lo sviluppo sostenibile è un concetto estremamente ampio che coinvolge imprese, istituzioni e cittadini e che attraverso l'etica e il rispetto delle regole mette al centro di tutto il benessere della persona e la protezione dell'ambiente. Il motivo per cui siamo venuti e stiamo intervenendo in questo convegno è proprio mostrare direttamente i risultati della sperimentazione che stiamo conducendo a Gioia e Tauro in collaborazione con Trenitalia ed RFI che ci hanno messo a disposizione un carro e i binari su cui andare ad operare e mostrare che attraverso questo sistema è possibile abbattere i costi del trasporto delle merci anche del 50%. Abbiamo già delle collaborazioni e più che collaborazioni abbiamo delle interlocuzioni con il Corap ed FCL a cui abbiamo proposto direttamente l'attuazione di un sistema per poter andare a trasportare i semi rimorchi anziché via gomma, quindi autostrada tramite il trasporto ferroviario. Nel corso del convegno sono anche state presentate le storie di alcune aziende calabresi che sono riuscite ad applicare il concetto di economia sostenibile al loro lavoro quotidiano. Da qui a pochi anni è stato detto esisterà una linea di pensiero che lavorerà per formare persone che si concentrino sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile e della salvaguardia ambientale in maniera concreta e non solo a parole. Vogliamo lanciare un messaggio oggi qua in Calabria come APCO anche in Calabria si può fare uno sviluppo e si può fare uno sviluppo sostenibile perché ci saranno storie di economia circolare storie di progetti innovativi storie di grandi valori e di grande valore che noi ogni giorno sotto i nostri occhi andiamo a verificare notiamo ma poi ecco non siamo stimolati a procedere a pensare che anche qui si può realizzare. Allora da oggi vogliamo dare questo messaggio come APCO è un festival del sviluppo sostenibile riguarda tutti i soggetti e quindi noi siamo pronti a collaborare con qualsiasi organizzazione con qualsiasi soggetto istituzionale e nonno che ha voglia proprio di creare delle condizioni di crescita per la Calabria. L'avvocato della signora Rosaria Scarpulla che è la mamma di Matteo Vinci il 42enne è rimasto ucciso con l'autobomba che è stata fatta esplodere la bomba che è stata fatta esplodere sotto la sua auto il 9 aprile scorso all'Imbadi e in quella circostanza rimase gravemente ferito anche il marito di Rosaria Scarpulla Francesco Vinci che è tuttora ricoverato al centro grandi istituzioni di Palermo ha denunciato tramite il suo avvocato la prefettura di Vibo Valenzi il comitato provinciale vibonese per l'ordine e la sicurezza pubblica ed il ministero dell'interno oggetto dell'esposto la mancata attivazione del servizio di scorta a sua tutela nell'esposto l'avvocato chiede di valutare la fondatezza dei profili di illicità penale nei confronti del prefetto di Vibo Valenzi a Guido Longo del ministro dell'interno Miniti e di tutta la catena di comando che fa capo al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza la prefettura di Vibo ha già risposto ieri pomeriggio nei confronti della signora Scarpulla e detto in un comunicato sono state immediatamente disposte le misure tutorie ritenute congrue si evidenzia che il ministero dell'interno non compete l'adozione delle misure di tutela e si continua a seguire con particolare attenzione gli sviluppi della vicenda l'imprenditore Pippo Caldipo è stato rinviato a giudizio ieri dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Vibo Valenzi a Gabriella Lupoli con l'accusa di omicidio colposo il reato contestato a Calipo trae origine dalla morte di un operaio di un suo stabilimento quello di Pizzo Calabro si chiamava Antonio Gagliotti di 49 anni in un incidente avvenuto nel 2015 mentre stava cambiando un vetro all'interno dello stabilimento di Pizzo l'uomo cadde rimase poi in coma per diverso tempo ma morì all'ospedale di Catanzaro nei confronti di un altro indagato per la morte di Gagliotti Moreno Ceravolo sessantenne dipendente della stessa società per l'inscatolamento del torno è stato dichiarato in un luogo a procedere mentre il 6 dicembre scorso per le medesime accuse aveva patteggiato una condanna a 10 mesi Ivan Ieracitano responsabile del servizio prevenzione e sicurezza dell'azienda Calipo l'incidente si verificò ripeto mentre l'operaio stava sostituendo i vetri del tetto di un capannone dello stabilimento dell'azienda era precipitato dall'altezza di 5 metri il processo si terrà e partirà il 20 settembre prossimo all'attarico la polizia ha arrestato per stalking il tunisino Nasreddin Chedi Benlamour di 54 anni che è in Italia senza fissa dimora le indagini sono partite dopo la denuncia presentata nell'aprile scorso da una donna che lavora come consulente del lavoro per cittadini italiani e stranieri in un'agenzia di Cosenza secondo le indagini è emerso che Benamour le ha inviato messaggi dal contenuto macabre foto anche piuttosto macabre ed un video in cui si vedeva un uomo non identificato che veniva scuoiato vivo parliamo adesso della Catanzaro Sport Village che è una kermesse di ben otto giorni che si terrà nel capoluogo di regione nell'area dello stadio Ceravolo che è stata accompagnata preceduta meglio ancora da notevoli polemiche che adesso fortunatamente sembrano essersi stemperate madrina dell'evento clou della serata del 30 giugno quello della giornata conclusiva sarà Simona Ventura Concerti teatro cabaret musica fitness e calcio fanno parte del cartellone del Catanzaro Sport Village in programma dal 23 al 30 giugno prossimi una manifestazione di ben otto giorni che ha come partner fra gli altri l'Unicef e l'associazione insuperabili Reset che a Catanzaro apre la sua quindicesima sede italiana per realizzare un'academy che avvicini al calcio i giovani disabili la musica avrà uno spazio importante si parte sabato 23 giugno proprio col concerto di Eman e Nitro chiamati dal promoter Ruggero Pegna e poi si svaria dal teatro invernacolo con una commedia del teatro incanto di Francesco Passafaro ed un'altra di Tonino Pironaci e Piero Procopio al calcio che ha un ruolo centrale dal beach volley allo street soccer dal subuteo ai maniaci di console e computer per FIFA 18 dal primo summer camp al memorial ceravolo riservato a calciatori under 15 ma il clou del programma è la giornata conclusiva quando si svolgeranno la sfida tra la squadra dei testimonial insuperabili e la Catanzaro Legend che vedrà in campo molte glorie del passato giallorosso da Ragneri a Palanca da Mauro a Corona dopo la partita si terrà la decima edizione del premio Sacco col quale si celebrerà anche il quarantennale della terza promozione in Serie A quella del Catanzaro di Giorgio Sereni nel 1978 madrina d'eccezione dei due eventi conclusivi sarà Simona Ventura riduce da poche ore dall'ultima puntata del Talent di Canale 5 Amici Presidente dell'Associazione Alcon starebbe spiegando i dettagli della segna fatemi sapere se possiamo recuperare il servizio che era quello di chiusura fra le altre cose quindi altrimenti dovremmo chiudere l'edizione del telegiornale abbiamo comunque detto diciamo che grosso modo il come dire le informazioni essenziali le avevamo già date poi c'è appunto questa questo stemperare la polemica da parte del sindaco di Catanzaro Sergio Abramo polemica che era puntata su due temi da un lato la concessione gratuita o meno dell'area dello stadio Ceravolo nella quale la manifestazione si svolgerà e anche il pagamento di un ticket il prezzo insomma di questo ticket che poi è stato modificato proprio dalla cui entità è stata modificata l'amministrazione comunale allora non so se possiamo recuperare il servizio ci proviamo? e allora no dobbiamo salutare ci rivediamo alle 19.10 col telegiornale io vi ricordo che dopo di noi dopo la pubblicità c'è una nuova puntata dell'Italia del Sud con Domenico Milani a più tardi a stasera a stasera a stasera a stasera a stasera